immerso in un'atmosfera magica sorge il collegio di montebello siamo a perugia uno tra i più importanti poli universitari d'italia dove il tempo a volte sembra essersi fermato e al contempo corre molto veloce costruire una nuova comunità educante non è un sogno ritrovare vicinanza e affinità tra chi crede negli stessi ideali sembra impossibile in una società che spesso non ci vede trovi persone con cui parlare e confrontarti amici con cui raccontare i tuoi problemi uscire è veramente un'esperienza che difficilmente sarebbe sarebbe possibile fare essendo molto giovane avevo bisogno anche un po di un nucleo familiare e qui sicuramente l'ho trovato tra gli educatori gli studenti gli stessi convittori gli universitari c'è sempre stato questo clima di unità sono felicissima di questa scelta i nona osi il futuro è nelle vostre mani